Come procede il percorso verso la transizione ecologica nel settore auto? È un percorso ovviamente dirompente che sta andando avanti con alcune difficoltà perché ovviamente la nostra filiera automotive è molto legata ancora al settore tradizionale e alle attrazioni tradizionali. Il nostro osservatorio dice che ci sono ancora il 70% delle imprese che lavorano sulla componentistica tradizionale. Quindi è un percorso ormai segnato che bisogna accelerare con moltissime difficoltà. A cui si sono aggiunti anche le difficoltà degli ultimi mesi. Voi producete plastica anche per il settore auto. Quali sono state le maggiori preoccupazioni per tutte le imprese dell'indotto quest'anno? Siamo partiti da un forte rincardo delle materie prime già nel 2021 e poi quest'anno la grande componente dell'energia che ha veramente cambiato i conti economici di tutte le imprese. Quindi difficoltà negli approvogginamenti e ovviamente difficoltà nel sostenere i costi dell'energia soprattutto sulle aziende energivore come nel settore delle materie plastiche. Come vedete il futuro anche considerando appunto i costi dell'energia e gli interventi del governo come quelli che ci sono in manovra? Ma il governo ovviamente ha preso dei provvedimenti che per le aziende energivore non sono sufficienti. Però è qualche cosa, speriamo che la tensione si attenui e poi soprattutto sul settore automotive speriamo di una vera politica industriale del governo di medio e lungo periodo. Quello su cui puntiamo da moltissimi anni e purtroppo queste nuove varianti, queste nuove difficoltà non aiutano ad avere una visione positiva. Per questo anche se la domanda di veicoli e di componenti è forte anche per un arretrato che si è accumulato le prospettive non sono positive per questi elementi.